Ciao amici, avrete letto tutti la notizia di un'ambulanza a Napoli che è rimasta intrappolata nel traffico. Una persona purtroppo che doveva essere trasportata in ospedale è morta a causa del ritardo causato dalle macchine in sosta selvaggia che non hanno consentito ai sanitari di arrivare per tempo in pronto soccorso. Ora, di chi è la colpa della morte? La questione mi ricorda molto il caso scolastico presente su molti libri di diritto penale e il caso è questo. Una persona tira un pugno a un'altra e questa cade e sbatte la testa. In realtà le sue condizioni possono essere giudicate guaribili ma ha necessità di essere portata in ospedale. Se non che l'ambulanza fa un incidente e l'uomo muore a seguito di ciò. Chi gli aveva tirato il pugno può essere incriminato a titolo di omicidio? Chiaramente la risposta è no, si risponde solo delle conseguenze prevedibili del proprio comportamento e la morte per incidente stradale è un fatto eccezionale. Ora, lo so che a Napoli come molte altre città italiane le auto in doppia fila sono una costante, ma in questo caso chi ha parcheggiato male non risponderà dell'omicidio. Potrebbe piuttosto rispondere oltre che della violazione del codice della strada, del reato di interruzione di pubblico servizio, ma è tutto qui. Questa è la legge.